Musa va al servizio 4 match point Leon, Giannelli primo tempo di partito per Torusso Herrera Giannelli cambia verso Seminyuk l'attacco di Seminyuk è lo scudetto per Perugia mancava dal 2017 2018 Perugia merita perché quest'anno fa il poker 20 Monza, 24 Perugia seconda palla match non forza, Leon riceve bene Giannelli palla in testa a Russo però Murato Russo ricostruisce Perugia lo fa con Seminyuk in contraattacco chiude lui chiude lo schiacciatore polacco 25 Perugia 20 Monza 3 a 1 di Perugia su Monza Perugia conquista il secondo scudetto della sua storia Perugia championship point non è cambiato il finale questo è il primo tempo di questa storia è il primo tempo di questa storia la sua storia è la sua storia che si tratta di questa storia la sua storia è la sua storia Semeniuk! Perugia può cantare la festa! Il secondo tricolore della storia è tuo! La Sir vince! 3 a 1 allo Picquad Arena! Giocano è per 6 anni la scena che Metafoglia è venuto! La italiana donne grazie in volleibola. Pagliarmati lalaman per Rugione e il campo. Manza per progetti. La torta trassi è iniziata. Lada di raggiare. Semeniuk è iniziata. Perugia i raggiungi per esercizioni! Cacioppa può partire, fischio dell'arbitro, anzi il pallone Cacioppa, dall'altra parte è corta, la riceve Leo, Giannelli per Russo, la copre Herrera, Giannelli questa volta sceglie Camille, sono le 20 e 29 del 28 aprile 2024 e siamo, siamo, siamo campioni d'Italia. Grazie a tutti.